Quest'anno abbiamo presentato una famiglia nuova, si tratta di Tondina, è un prodotto disegnato da Favaretto & Partners, che sicuramente è una seggiola molto delicata ed elegante, allargata anche alla versione lounge che ha un bilanciamento, noi crediamo, molto apprezzato. Gli stessi visitatori la stanno gradendo tantissimo e ci sta dando già dalla prima presentazione delle grosse soddisfazioni.